Il prodotto di Slim for Fit, che è della marca Neo Elementum. Questa è la confezione di Slim for Fit, è un integratore alimentare al 100% naturale, non è assolutamente un medicinale. Qui non ci sono neanche conservanti, il che è un plus. Mi sta aiutando tantissimo a migliorare l'aspetto del mio fisico, ma anche proprio internamente. Non so se vi spiego. Mi sta aiutando sia mentalmente che fisicamente. Perché ovviamente quando ci vediamo in un modo, anche la nostra mente risponderà in un altro modo. Quindi diciamo che le due cose vanno di pari passo, per essere interno e per essere esterno. L'ho visto la loro pagina Instagram di Neo Elementum, così ho deciso di acquistare questo prodotto, dato che comunque ho visto che le recensioni erano molto molto buone. Dopodiché loro hanno deciso di collaborare con me per questo video. Se vi seguite da un po' saprete che da sempre sono appassionata, molti dicono fissata però, appassionata di alimentazione, perdita di peso, tutti questi elementi collegati al benessere. Cercando di muovermi molto di più, sempre di più, tutti i giorni, se non ci riesco tutti i giorni, a giorni alterni. Perché ricordiamoci che è meglio fare il minimo che non fare niente, ok? È meglio muoversi anche quando abbiamo poco tempo che, appunto, non muoversi affatto, stare tutto il giorno sul divano a mangiare schifezze. No. Allora, qui ci sono 30 capsule. Questo prodotto che, ripeto, è un integratore naturalissimo, assieme a alimentazione sana, movimento, vi aiuterà tantissimo. Come agisce questo prodotto? In una capsula ci sono tantissimi estratti a brucia grassi, praticamente. Con l'aiuto di questo prodotto, sempre combinato a sano, alimentazione, movimento, ricordiamoci che questo è un integratore, quindi va ad aggiungersi a quello che già stiamo facendo noi. Non è un sostituto di un'alimentazione sana. Aiuto non solo a perdere peso, ma al benessere generale di tutto l'organismo. Qui ci sono i ingredienti, prima di tutto, selezionati, poi certificati, cosa importantissima, altrimenti non mi sarei neanche assoluta qui a filmare questo video, parliamoci chiaro, perché se un prodotto è di qualità io non ho assolutamente la minima intenzione di promuoverlo. Perché è efficace e alla massima resa? Allora, qui ci sono estratti di garsinia, cambogia. È praticamente un estratto di un frutto che aiuta tantissimo a ridurre il senso di fame. E poi ci sono anche sempre estratti di foglie di tè verde qui dentro. Inoltre, questa formula è ricchissima di antiossidanti che aiutano sempre durante la perdita di peso. Se guardate qui, se siete curiosi, appunto potete controllare anche nel sito web, ci sono tutte le percentuali degli ingredienti contenuti qui dentro. Io prendo sempre una capsula tre volte al giorno prima dei pasti, quindi ad esempio prima di colazione, pranzo e cena. Infatti stiamo giusto in tempo perché io devo ancora pranzare. Prenderò una capsulina qui con voi. Vedete, sono di questo colore. Niente, l'importante è avere un bel bicchiere d'acqua perché hanno bisogno di molta acqua per essere ingerite, altrimenti il prodotto non arriva nello stomaco. Riallacciandomi al discorso che vi stavo facendo io. Anche nella confezione c'è scritto, ricorda che una dieta bilanciata e un corretto stile di vita sono i prerequisiti di una buona salute, quindi ve lo ricordano anche qui. Il programma completo della perdita di peso Slim 4Vit dura esattamente un mese, quindi tre flacconcini del prodotto perché all'interno appunto ci sono 30 capsule. È consigliabile prendere questo prodotto per un periodo di tempo prolungato affinché faccia effetto. Linea di massima, non posso non raccomandare questo prodotto. Top! Mi hanno dato anche un codice sconto per voi, Neo 2018. Questo è già scontato del 30% sul loro sito e se inserite questo codice sconto al checkout potete ottenere un ulteriore 20% di sconto. Se volete testare voi stessi quanto è efficace questo prodotto, vi consiglio di farlo ora. La promozione non sarà valida per sempre, è molto probabile che tra un po' di tempo questo codice sconto non sarà più valido. Se il codice sconto non dovesse più essere valido, poi non venitemi a dire Ah ma quel codice sconto che ci avevi dato in quel video, che fine ha fatto? Perché io vi ho avvertito, ok? Questo prodotto è disponibile anche in farmacia ma è più facile secondo me acquistare direttamente dal sito web perché con dei codici sconto appunto risparmiate tantissimo. Può essere anche una buona idea per seguire lo stesso obiettivo con un'amica ad esempio. Vi dividete le spese e comprate un programma a testa che sarebbero quindi tre flacconcini a testa e secondo me è un'ottima, ottima cosa per restare motivati comunque non solo nella perdita di peso ma nel benessere generale del corpo. Sono contentissima che Neolementum abbia organizzato anche un giveaway per voi. Non vi resta che leggere benissimo l'info box qui sotto, trovate tutte le informazioni, tutti i link su come partecipare ed è davvero molto molto semplice. Hanno messo assieme dei regali davvero super per voi. Per tutte le regole non vi resta che controllare il loro link Instagram. Ancora una volta lo trovate qui sotto. Non è una cosa che capita sempre che un'azienda organizzi giveaway. Dovete assolutamente partecipare in tantissimi perché sono dei primi veramente bellissimi. E niente, buona fortuna soprattutto. Quindi questa era, anzi è la mia esperienza con questo prodotto. Questo continuo ad apprendere ogni singolo giorno. Sappiate che questo sarà il vostro migliore amico per l'estate oppure per qualsiasi altra stagione. Ovviamente modestamente consigliato da me. Se volete un video ancora più dettagliato sulla mia alimentazione, movimento e altri piccoli trucchetti oltre appunto al video che vi ho fatto oggi, potete dirmelo qui sotto nei commenti. Per ora vi posso dire che io mi limito a un'alimentazione corretta, sana, più pulita possibile durante tutta la settimana e poi mi lascio praticamente quei uno, massimo, massimo due giorni, quindi sabato e la domenica per sgarrare. Perché ricordiamoci che prima di tutto la vita è una, quindi se non sgarriamo almeno una volta alla settimana che vita sarebbe. Anche io bevo, mi concedo i miei cocktail, bla bla bla, lo sapete che quella è una mia debolezza. Però non lo faccio tutti i giorni perché ovviamente so che fa male e lo riservo solo ed esclusivamente il fine settimana. Magari anche se esagero un po', poi il giorno dopo torno alla mia solita routine, quindi smaltisco tutto e mi sento a posto con la coscienza. Anche perché è scientificamente provato che uno sgarro una volta alla settimana non compromette la vostra forma fisica. Però, ripeto, è importante non mangiare schifezze e non bere tutti i giorni perché altrimenti fa malissimo, oltre che ingressare. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto. Non dimenticatevi di seguirmi su Instagram, possiamo sempre sempre scambiare due parole anche lì. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!